buon ciao a you benvenuti a tutti dal vostro amichevole nonno della rete e da quello che si può notare siamo arrivati nel far west e apriamo subito 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 con un bel draft non lo faccio in silenz però iniziamo un bel draft premier abbiamo un bel ingresso draft e lo utilizziamo allora ho fatto il preliss ho vinto è andata bene un mazzo abbastanza figo con un bel po di bombe spada protezione degli standard essere quelli a remor di massa tanta roba andiamo subito al tavolo prontissimo tante meccaniche fighe andiamo a vedere commettere un crimide ok apriamo rara che non ci piace entra in campo in battaglia scartano una carta entra in campo un prossimo giocatore bersaglio immaginano una carta e perde un punto di vita quattro vanno entro ai capi battaglia creiamo uno zombie 2 2 blu e nero farabutto però poi mette due segnali su quella pedina per ogni magia diversa dalla prima che lancia di questo turno ok distrugge il bersaglio bersaglio ci piace scarta armadillo passa il tuo crimone per la terra basa deserto guadagni tre punti vita mentre cavi battaglia crea una pedina creatura per un mercenario 1 1 che da più o più 0 ogni qualvolta attiva un'abilità che bersaglia una creatura un giocatore copio con l'abilità pompa 17 secondi alta non comune cico mano questa ribiace comunque terra base raggiunge reggita questa no i deserti ci sono perciò questo è forte ma come prima carta spero di oh vedi perdi il punto di vita per il suo ruolo di Vala però se Vala 7-7 raggiunge reggita lei che fa invece? ha ricordato il creatore equipaggiato fa danno al combattimento guarda le altre tante carte si legge la carta metti l'altra in fondo è forte non può essere bloccato si è commesso un crimine ha un'occhio di danno al combattimento del giocatore e pesco la carta ma questa riscatta 2 se ti accade questo turno crea una pediatra fortissimo questo questo è un po' forte eeeh mo hai da capire oh blu questo pure è bello però secondo me andiamo con il nero infatti lei che fa entra il capo di battaglia tappato quando entra il capo di battaglia per tornare a 3 che potrà in mano se un altro deserto si è fatto tornare soviglia a 1 se non ha già la giusta la tua mano in questo turno pesca la carta figo 1-1 tocco l'Italia 1-1 cosa è figa mettiamo il legame vitale ecco mettiamo un crimine un giocatore bersaglio verde e nera inventi sul capo di battaglia fino a una carta che ha due bersagli a due civiteri prendi in mano fino a una carta permanente per stare a due civiteri prendi in mano cecchi di terra crei elementare fare il numero soviglia 1 giugiu guanna però tutta la vita qualche altro ciccione quindi prendi in mano permanente metto in segnalino 1-1 sogni di creature che è entrata e cambia battaglia in quest'urno vaccina 3 aggiungi una carta a terra e scelta che non puoi farlo che una piazza e ammizia con ogni creatura lei è forte troppo che vola troppo di cosa simpatica 2-2 2-2 non è la prova a casa non è la prova a casa e eh almeno questo è come tu un grigio eh sì un paio di remuogo perché poi il verde e il nero stiamo ancora alla settima scelta una creatura di controlli prende più o più una creatura meno uno meno uno ho un mano bella questa è la roba che vola il po' vivo eh sì alla fine la creatura volante la dovevo prendere questo è il gioco pronunciato quindi non è stato lanciato tutta l'abilità pure l'ampo c'è male a 6.2 l'ampo con il meno 2.1.2 vediamo la bella la comuna la che dovrebbe essere un po' bloccato questo è qui non fuori registrato sacrificato in questo modo ho un altro piccione io stavo facendo altro questo verde minchia quattro nero allora cavalcatura cavallo serpente 2-2 attacca rivella prima creata del tuo griborio aggiunge la valla quanti punti di vita quali non è sellata ti manda gli avversari per tutti bomba bella eh vabbè ah questo pure serve eh però fortissimo un removal per ogni deserto forte prese mano queste due mano metti i disegni più o più una che dovrebbe essere a travolgere più a più una che dovrebbe essere a ogni porto così pesca due tappi due cazzi qua una tre muovere lui perde bianco metti i disegni più o più ogni porto muore quando muore c'è una pedina uno rossa bisogna qualsiasi di bersaglio due mano più due più due per ogni tesoro non è che te due di con tesoro un'altra che tu lo collegavo è vitale un po' di troppo a due poi capiamo perde bianco e blu troppo entra nei capi battaglia pesca due carte e perde due po' di vita questo ci piace il solito assassino tac perde sellato metti se dovrebbe sellato in questo modo 2-3-1 che peschi e scatti di suggerimento al bersaglio popolare per la vita questa la metto da parte la metto un armadillo 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 11 creatore, 6 non creatura, con una bella curva di mano, passi a sedere che muovi una carta da mettere le tue civiliere, valori di trattare pari inferiore a 4 dal tuo civiliere, in carri a tutti. Una volta attacca il desiderato, quindi è più rapidito. Ruba pensieri. Paga un punto di vita, crea una perdita del suono. Quanto è intercambio in battaglia così distruttore una carta? Non mi dico la scuola. Ma certo, con 13 creatore. C'è un'altra scatolante in generale. C'è un 3 più 2 e raggiungere. No, la voglio distruggere. Eh sì, la voglio distruggere me. La voglio distruggere. Vabbè, se la carta la mettiamo da parte. 20. Oh. Rapidita e eccita. Bomba. 1.0. niente rampino metto la parte scelta 10 per creatura grazie niente niente di croccante come ultimi pic questo dovrebbe essere interessante tanti troppo a due però vediamo un po' di crimini li commetto ma non andiamo avanti 9 troppo a due lui è bello rimuov a rimuov a rimuov a rimuov a remuov a remuov a remuov a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10 e due punti di vita l'occurità va bene andiamo con la prima oh 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. Regamento. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. Grazie 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 a tutti. a tutti. e a tutti. va bene così. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. lo facciamo. a tutti. a tutti. va meglio. a tutti. a tutti. a tutti. vediamo. a tutti. peccato. e poi, se lo faccio. a tutti. a tutti. a tutti. un po' di terra. a tutti. a tutti. a tutti. scarto, a tutti. va bene. va bene. a tutti. il doppio verde. a tutti. 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 raggiungerà. a tutti. 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 tutti. a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. sempre. a tutti. tanti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti.